Era un mondo del cinema di allora, era un mondo molto, molto... Si facevano grandi film con pochi o zero soldi, con produttori che si inventavano un mestiere, ed era una cosa molto... In molti casi ci sono dei racconti meravigliosi, Rodolfo Sonego, grande sceneggiatore, un pozzo di racconti, perché lui era arrivato da Belluno, dal Veneto in Italia a Roma e cominciò a frequentare l'hotello, a conoscere, e poi lui scrive, era molto bravo a scrivere, poi era un grande narratore, raccontava delle storie che incantavano tutti, per cui riusciva a combinare i film, lui come narratore di storie, lui raccontava sempre che c'era un produttore che gli offerse un contratto enorme e poi gli ha detto appuntamento per firmare, e non esisteva l'indirizzo, era un palazzo vuoto, non c'era niente, non esisteva neanche il nome, era un palazzo appena finito di costruire, e lui va lì e i muratori gli dicono ma no, questo ancora non è abitato, come non è abitato, c'è il produttore, mi devi pagare, mi devi dare... e qui si misera a ridere, ma no, non è ancora abitato il palazzo, e Sonego rimase senza contratto, e senza produttore. Sonego rimase senza contratto,